Bella a tutti ragazzi, oggi vi faccio un nuovo video dal vostro matenale azzurro, oggi parliamo di Pulcic che è un nuovo giocatore del Milan Benvenuti ragazzi, un bel like, una bella inscrizione al canale e grazie di cuore per il supporto che mi state dando comunque negli ultimi giorni comunque siamo arrivati a 309 iscritti, l'obiettivo sono i 400, iscrivetevi in tanti perché farebbe molto molto piacere arrivare anche a questo bel traguardo e ragazzi deve partire subito, Pulcic ragazzi, nuovo giocatore del Milan, è fatta, visite mediche tra oggi o domani e al massimo ragazzi lunedì, un giocatore ragazzi che anni fa diciamo all'inizio della sua carriera era considerato un giocatore che uno dei maggiori talenti diciamo del calcio mondiale addirittura, sembrava un giocatore predestinato ma purtroppo ragazzi non è riuscito a rispettare le aspettative che siano riposte su di lui forse per la troppa pressione che gli è stata messa addosso da tutti comunque e comunque adesso l'esperienza al Milan per provare ragazzi a rilanciarsi e dimostrare il suo vero valore parlando per la sua carriera, ragazzi ha iniziato la sua carriera fino a piccolissimo ha iniziato a giocare a calcio comunque dall'età di 7-8 anni nelle piccole società comunque degli Stati Uniti e dove comunque dal 2005 gioco, quindi al 98, dall'età di 7 anni, molto giovanissimo ragazzi il primo club europeo a scovarlo fu il Borussia Dortmund che nel 2015 all'età di circa, oddio, 17 anni lo porta ragazzi in Bundesliga e inizialmente lo aggrega nelle giovanili per poi ragazzi l'anno successivo subito aggregarle in prima squadra, dove comunque fa 9 presidenze in campionato segnando il gol a 17 anni, diventando il giocatore straniero più giovane a segnare in Bundesliga il quarto giocatore più giovane a segnare nella Bundesliga in generale quindi ragazzi veramente, era assolutamente un predestinato e negli anni successivi comunque si dimostra un grande giocatore seppur giovanissimo diventa il super titolare della squadra e come esterno in attacco e attirando l'attenzione di diversi club europei tra cui ragazzi molti club di Premier, Chelsea, Liverpool, Manchester City ma alla fine ragazzi a spuntare il Chelsea che forse ha esagerato ha speso ragazzi 64 milioni di euro nel 2018 per assicurarsi le prestazioni sportive di Pulisic però ragazzi Pulisic ha fatto una prima stagione ottima dove in 25 partite in Premier comunque Premier è molto più competitiva della Bundesliga ha fatto 9 gol e 6 assist tanta roba in 25 partite di campionato però ragazzi nelle sue stagioni un po' bala tra la titolarità e la panchina un po' le statistiche non gli danno ragione perché comunque fa pochi gol fa pochi assist e per quello che è stato pagato ragazzi non ha rispettato le aspettative non è stata all'altezza secondo me della situazione perché comunque alla fine è un attaccante ragazzi ma ha dei numeri neanche da centrocampista forse 145 partite in totale con il Chelsea 26 gol e circa 25 assist sono veramente veramente pochi a meno gli assist dovrebbero essere sui 40-45 perché ragazzi è un giocatore che ha nelle core degli assist quindi dovrebbe fare molto e molto di più adesso ragazzi l'esperienza a mila per provare diciamo a maturare un po' di più e cercare di diventare un giocatore migliore 24 anni comunque ancora molto giovane e ancora ragazzi ha tanto da dare al calcio europeo il giocatore ragazzi utile parlando poi delle sue caratteristiche che può ricoprire comunque tutti i ruoli dell'attacco cioè può ricoprire gli esterni o destra e sinistra o trequartista sia in un centrocampo magari 4-2-3-1 che in un attacco 4-3-3 magari ricoprire gli esterni e secondo me ragazzi a mila sarebbe il modulo ideale per lui per esaltare le sue caratteristiche perché può giocare esterno-destra e sinistra e trequartista nel 4-2-3-1 sarebbe veramente perfetto per lui a sinistra non giocherebbe perché ce le ha ma a destra o trequartista potrebbe fare facilmente il titolare ma comunque almeno in quei ruoli non è che abbia tutta questa concorrenza e comunque è un giocatore che è molto abile molto rapido nello scattare palla al piede quando ha palla comunque è molto bravo ad andare in profondità è un giocatore molto onogilineo e saltare gli avversari soprattutto grazie al suo dribbling ubreacante e alle sue finte comunque di corpo che disolientano gli avversari grazie comunque alla qualità che ha nei piedi comunque è veramente importante secondo me una grande dota che rivale conosciuta ragazzi è il grande spirito di sacrificio che comunque mette a disposizione della squadra perché molte volte anche quando in fase di un possesso in fase di copertura riesce sempre comunque a dare una mano al terzino a scalare e a recuperare magari tanti palloni anche in fase difensiva quindi ragazzi quello è un plus da non sottovalutare e comunque diciamo però un difetto è che allora deve migliorare la finalizzazione perché per quello che crea diciamo che potrebbe fare molti più gol e molti più assist deve migliorare comunque nell'ultimo passaggio e poi nell'ultimo tiro e deve migliorare ragazzi anche nella grinta perché lo vedo poco grintoso quando entra in campo lo vedo che potrebbe dare molto molto di più e ragazzi al Milan potrebbe veramente migliorare migliorare su tutti questi aspetti su tutti questi difetti che ha e diventare un vero top player del calcio europeo per poi magari il Milan rivendolo tra qualche anno a un botto di soldi ragazzi il giocatore che nel Milan secondo me ho detto giocherà titolare a destra o sulla tre quarti magari in questo momento non ha tre quarti sta parte di Kettler e di Kettler non è all'altezza quindi magari Solemme Kers Pulisic dall'altra parte o Giro o Scamac che arriverà ragazzi al colpo gli do un 7,5 comunque 20 milioni più bonus non so se l'avevo detto ci sta perché comunque il Chelsea fa una grandissima minusualenza però ci sta prendendo la cifra comunque è ancora molto giovane però ragazzi è un po' un punto interrogativo per tutti 7,5 comunque secondo me ci sta questo ragazzi mi ricordo nei commenti cosa ne pensate non è che c'è un prossimo video che c'è un prossimo video Grazie a tutti